Grande soddisfazione per i risultati siciliani. Perde disastrosamente il Partito Democratico, ma perde anche la sinistra a sinistra del Partito Democratico. Perde il Movimento 5 Stelle pur avendo un risultato rilevante, ma fino a pochi mesi fa doveva stravincere e invece perde. L'unica area che ha vinto è il centrodestra, il centrodestra unito, che raggiunge circa il 40% dei voti, se non di più, con i dati ad oggi, a quest'ora. Forza Italia ha un risultato straordinario, attorno al 16-17%, se non di più. Questo ci fa ben pensare rispetto alle prossime elezioni politiche. Centrodestra unito vince, vince in tutta Italia. La competizione sarà non più con il Partito Democratico, ma con il Movimento 5 Stelle. E rispetto al Movimento 5 Stelle pensiamo di avere uomini, argomenti, programmi, leadership, sufficienti per spiegare agli italiani come non sia possibile fare un salto nel baratro nel Movimento 5 Stelle e votare per il centro-destra unito di governo. Oggi serve costruire un programma unitario, una leadership unitaria, parlare con la gente che ha già deciso che dobbiamo stare insieme, dialogare con l'Europa e prepararci a governare questo Paese. Presidente, Di Maio ha denunciato a questo confronto con Renzi. Secondo lei si aspettava di vincere in Sicilia? Ma guardi, non mi permetto di mettermi nella testa di Di Maio. Troppo difficile. Dico solo che quel confronto sembrava una competizione tra bulli o bulletti di provincia. Che non si faccia tutto sommato, non mi dispiace né tanto né poco. Dico solo che a Renzi gli sta bene perché aveva fatto la stessa cosa con me. Aveva accettato un confronto con me e poi era scappato senza tante spiegazioni. Chi la fa l'aspetti. Devo dire però che da quel confronto non sarebbe venuto fuori niente. Quindi poco male, non ci siamo persi niente.